segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te grazie laura diamo il benvenuto a lorenza foschini buonasera scrittrice giornalista la ricordate tutte un volto che dice rai 2 dice tg2 il suo ultimo libro è l'attrito della vita edito dalla nave di teseo qual è l'attrito della vita eccolo qua indagine indagine sul matematico napoletano renato cacciopoli era un genio è stato forse in italia ma nel mondo uno dei più grandi geni della matematica del novecento siamo all'inizio il novecento lui more nel 59 nasce nel 1904 ma la cosa interessante che mi ha appassionato è innanzitutto il rapporto tra renato cacciopoli e napoli la sua città un rapporto simbiotico di quest'uomo che è nato e cresciuto in una napoli fantastica fino all'avvento del fascismo e subito durante il fascismo perseguitato dal fascismo addirittura rinchiuso per un mese in un manicomio perché era un uomo profondamente libero era il nipote di bakunin il fondatore del movimento anarchico anche se poi racconterò che non era veramente il nipote ma questo con conto invece un suo lontano parente era mia madre cacciopoli quindi è una storia di un grande genio è la storia di una città ma anche un piccolo debito e un tributo che faccio alla famiglia di mia madre che era una famiglia un po particolare cacciopoli una famiglia molto stravagante e anche questo era un genio lui era un genio talento matematico musicista a livello di arturo benedetti michelangeli benedetto croce poi gli ha detto no cacciopoli faccia la matematica perché ci vuole del metodo nella storia va detto diciamo che era anche un incallito alcolista l'alcol come dice la grande scrittrice fabrizia remondino altra gloria napoletana della mia città l'alcol perenato cacciopoli come per tutti questi era un'anima dilatatore quando raggiungi quel livello di intelligenza quando arrivi a fare delle scoperte come soli geni chascia lo racconta molto bene a proposito di majorana quando il genio si avvicina alla verità è un attimo talmente sconvolgente di felicità che dopo ci sono abbissi di vuoto e l'alcol aiuta dunque il fascismo dicevi si insidia in italia in quel periodo il giovane renato labore e ancora una volta ha un approccio originale nel farlo beh sì perché renato cacciopoli ha un modo di fare che vorrei dire molto vicino al futurismo quando durante il fascismo viene proibito a esempio di passeggiare con dei cagnolini di piccolo taglio perché poco virile renato cammina per via chiaia napoli con un gallo al guinzaglio ha trovato una soluzione l'ironia del genio questo è stato però è stato pure richiuso il manicomio è stato un mese con i pazzi perché naturalmente aveva dato in escandescenze con la polizia è stato sempre sempre spiato durante tutti gli anni del fascismo e poi perché era vicino al partito comunista durante gli anni di scelba diciamo fino a quando si è ucciso gli hanno persino impedito di andare grandi congressi internazionali essendo lui un genio è stato sempre spiato si capisce cosa aveva inventato nella matematica o scoperto nella matematica è impossibile la città di napoli perché dici che anche un libro su napoli perché un rapporto simbiotico quando è finita dunque napoli innanzitutto aveva un rapporto molto interessante con l'internazionale con thomas man con eluar con neruda e caccioppoli poliglotta genio bello musicista aveva rapporti con gide con un po tutta l'intelligenza diciamo che quando cade il fascismo sprovincializza la città rappresenta un'occasione per una città addormentata dal regime fascista di ribellarsi e sia lui che la città hanno la speranza che qualcosa possa cambiare però tanta genialità ha un prezzo il mal di vivere fondamentale al prezzo del mal di vivere come dicevamo prima sono gli abissi proprio del vuoto alla pascal che non puoi più riempire con nulla quando sei un uomo così anche se lui amava il cinema la musica e tutto potrebbe anche essere che la sua vena geniale possa anche essersi esaurita tutto è anche come dicevo prima l'incomprensione e la difficoltà di potersi muovere in una società che non gli piaceva l'attrito della vita appunto lorenza foschini grazie in bocca al lugo e buon lavoro grazie per essere stata con noi allora non resta che ricordare che fino al 26 febbraio